E' tra i pochi punti nascita del nord dell'Umbria che hanno registrato un sensibile aumento di bebè nati. Nel 2016 sono stati 400 i parti registrati contro i 350 dell'anno precedente. Vuoi la viabilità migliorata, vuoi le scelte delle usle marchigiane, vuoi perché le eugubine e le gualdesi sono tornate a scegliere branca? Fatto sta che il primario di ostetrice e ginecologia del nosocomio comprensoriale guarda il futuro ancora con maggiore ottimismo. Diciamo che tecnicamente il territorio eugubine eugualdese dà un certo numero di parti. Noi siamo in grado, grazie al lavoro delle ostetriche del territorio, del personale e delle nostre ostetriche, a far sì che quasi tutta la popolazione ostetrica eugubine eugualdese si rivolga a questo ospedale. Una piccolissima parte di signore vanno a partorire a Perugia e una piccolissima parte a Foligno, ma di solito sono dei trasferimenti, sono delle situazioni che noi non riusciamo a gestire per una limitatezza dovuta alla struttura nostra, a un centro di primo livello. Li recuperiamo tranquillamente perché molte signore da Perugia vengono a partorire qua e anche una certa quota di signore dall'alto maceratese vengono a partorire qua perché l'ospedale, il punto nascita di San Severino Marche è stato chiuso e questa tendenza dovrebbe aumentare quando il punto nascita di Fabriano, che è ancora aperto, quindi attivo, da quello che mi dicono dovrebbe chiudere alla fine di quest'anno. Però, insomma, noi dobbiamo lavorare col nostro, avere le idee chiare, avere dei protocolli seri, cercare di proporci come una struttura seria, efficace ed efficiente per tutto il territorio guinocualdese e se possibile fare da punto di attrazione per la bontà e la qualità del nostro lavoro. Intanto però anche a Gubbio c'è chi si dice interessato a partorire a casa, come una volta seguito però da ostetriche ed infermiere formate appositamente. Tanto che uno staff della vicina Fabriano ha ricevuto qualche contatto, ma ancora in ombre una scelta del genere costa perché non sono state attivate le convenzioni in essere in altre regioni che significano un risparmio per le asle, un sostanzioso contributo alle partorienti, tanto da ricoprire quasi del tutto il costo del servizio. Cosa ne pensa Scarponi? Ci sono varie nazioni in Europa che hanno attivato la possibilità di poter nascere a casa, ma sono realtà molto diverse dalla nostra e hanno comunque un'assistenza alla partoriente importante, nel senso che la signora che decide di partorire a casa ha un tipo di assistenza quasi ospedaliera, quindi con un'autombulanza pronta a disposizione che se succede qualcosa in dieci minuti sono in ospedale. Diciamo che selezionando attentamente le gravidanze e con del personale altamente selezionato e quindi anche formato, ritornare al parto a casa potrebbe essere una chance da valutare con molta attenzione. Allo stato attuale ci sono varie difficoltà da superare.